Musica Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Nero su Bianco. Questa sera cominceremo parlando della liberazione, il concetto di liberazione, i valori che ancora oggi abbiamo ereditato, della memoria, ripercorreremo insomma quelle che sono state anche le cerimonie di questi giorni, soprattutto ovviamente anche il momento che si è vissuto in Valdarno con l'arrivo di Renzi. Poi vedremo un suggestivo stralcio da il silenzio perfetto che ha ripercorso qualche tempo fa la strage della Fontaccia. Fontaccia, Fontaccia. Sentiremo delle testimonianze davvero toccanti, una strage del luglio 1944. Tra poco partiremo però con un argomento di attualità che ci permette anche di parlare di questa trasmissione. Io intanto saluto il segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Dindalini e poi Cristiano Gomani che è il segretario del Movimento Nazionale della Sovranità per quanto riguarda Aghezzo. Buonasera a tutti. E poi saluto Luca Grisolini che è il presidente dell'Ampi della provincia di Aghezzo. Buonasera e benvenuto. C'è Davide Faltoni, c'è Piero Franchini. Buonasera a tutti. E allora a proposito di Davide Faltoni, la scorsa settimana avevamo qui il sindaco Grinelli, a un certo punto Davide Faltoni aveva riespresso il suo parere sulla scuola di Matrignano, sulla possibile chiusura della scuola di Matrignano. E ribadendo che secondo te questa chiusura è giusta per i motivi che hai delineato, adesso non stiamo a ripercorrere, che tra l'altro hanno suscitato numerose polemiche su Facebook da parte di alcuni dei genitori dei bambini che vanno in questa scuola, c'era stata una interrogazione dell'onorevole Mattesini, proprio del Partito Democratico, e tu avevi detto, no ma perché non fa un'interrogazione? Ma forse c'è in questo momento qualcosa di più drammatico che è la Cantarelli, con tanti posti di lavoro a rischio, che forse è considerato anche che è una procedura, che c'è un controllo ministeriale, è più attinente un'interrogazione sulla Cantarelli che non su Matrignano. E mi sa che forse ti ha ascoltato perché l'interrogazione appunto è diventata realtà. Sentiamo un attimo l'onorevole Mattesini. Io sono molto preoccupata, tra l'altro abbiamo seguito la vicenda Cantarelli fin dall'inizio e devo dire che il fatto che la prima asta, la traserta, crea davvero grandi preoccupazioni. E oltre che creare preoccupazioni, io credo che debba avere l'impegno sia da parte della Regione, ma per quello che riguarda me, anche il far carico di questa vicenda al Ministero del Sviluppo Economico. Ne parlerò direttamente con la viceministra Teresa Bellanova che conosce la questione e presenterò anche un'interrogazione. Però al di là delle interrogazioni serve davvero che tutta la nostra provincia lavori in modo unitario, perché questa vicenda è una vicenda che merita un impegno. Sono 200 persone, ma anche un marchio e anche un'azienda importante che ha fatto la differenza nella qualità dell'esportazione anche di questo nostro territorio. E penso che debba essere difeso proprio il posto di lavoro delle persone, ma anche una possibilità per il nostro territorio, in questo caso la Valdichiana, di poter mantenere un polo produttivo di grande importanza. Insomma, quello che ci chiamiamo il nego su bianco, ma ogni qualcosa rimane. Quindi quando facciamo qualcosa di buono è venerito. E qui credo che di buono lo abbiamo fatto, anche se poi chissà come andrà a finire, perché è chiaro che le difficoltà ci sono e sono tante. Quindi io spero però, appunto, perché ritornando al discorso della liberazione, ecco anche qui diciamo, si trovi il giusto modo, perché dopo la liberazione di quando sono nato io, si chiede 72 anni fa, spero che onestamente questa liberazione serva anche a qualcosa, perché la gente che è stata liberata abbia con che vivere, abbia come stare tranquilli e abbia come soprattutto sentirsi in sicurezza, sentirsi veramente in democrazia, come dovrebbe essere. E certe volte invece ci sono molte, ma molte pecche che purtroppo vengono sempre a galla. Quindi io spero che, appunto, tutti si ripensi un po', si ritorni un attimino al punto primo, dove si dice che il punto primo dovrebbe essere, al di là della Costituzione, al di là di tutto, dovrebbe essere che il rispetto di ognuno di noi verso l'altro sia importante e bisogna veramente ricominciare da zero. C'è stato il settino dei lavoratori davanti alla Prefettura, il Prefetto li incontrerà nuovamente, preoccupazioni rimane perché loro dicono che è a rischio anche Pitti. Sì, io sono andato a salutare i dipendenti, le rappresentanze sindacali, perché mi sembrava un gesto che il Partito Democratico dovesse compiere, quello di esprimere la solidarietà, a vicinanza di ascoltare le loro drammatiche preoccupazioni, perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, ci sono delle preoccupazioni, e quindi è importante far sentire la voce anche dal punto di vista politico. Penso che noi tutti dobbiamo fare un richiamo unanime, al di là della bandierina che rappresentiamo, affinché tutte le istituzioni, a iniziare dai sindaci, ho visto il sindaco Basanieri, che è andata assieme alla rappresentanza sindacale ad incontrare il Prefetto, ora che tutti i sindaci coinvolti dalla Cantarelli, che non è solamente un'azienda del Comune di Cortona, riguarda il Comune di Arezzo, tutta la Vardichiana, perché è un indotto importante, ma non solo i sindaci, il Presidente della provincia, i parlamentari, i consiglieri regionali, l'assessore regionale, cioè tutte le istituzioni debbano fare, al di là dell'appartenenza politica, cartello affinché si faccia quanto più sforzo possibile per tutelare i lavoratori, ma soprattutto per dare, anche in un momento di difficoltà come questo, una speranza a un settore, che è quello dell'alta moda della moda, sapendo che non c'è solo la vicenda Cantarelli, perché ci sono altre aziende di dimensioni piccole che sul settore della moda stanno chiudendo in questi giorni, lasciando senza lavoro altre maestranze, altri dipendenti, quindi è un settore che ha bisogno di tutte le attenzioni istituzionali possibili. Credo che unanimemente, al di là dell'appartenenza politica, sia uno sforzo che dobbiamo compiere. Per chiudere questa pagina, Cristiano Romani, la politica può fare qualcosa davvero? Oppure di fronte poi ad altre problematiche, qui anche relative forse anche alla gestione degli ultimi dieci anni, che cosa può fare appunto? Le istituzioni cosa possono fare? Noi come Movimento Nazionale per la Sovranità ci stiamo già muovendo, lo faremo attraverso il nostro consigliere comunale Bardelli al Comune di Arezzo, perché come diceva giustamente Dindalini, questa qui è una vicenda drammatica, che riguarda non solo il territorio della Valdichiana, ma anche Arezzo, dove tante famiglie sono in grande difficoltà. È chiaro che il settore tessile è un settore che sconta una grande difficoltà, non da ora ma da anni, la vicenda Cantarelli forse c'è anche una mala gestio, ma sconta questa grande difficoltà anche perché molte aziende hanno delocalizzato, hanno fatto produzione in altri paesi e hanno fatto manifattura a basso posto, andando ad incidere sulle famiglie italiane che facevano quel lavoro lì, quindi noi dovremmo sì batterci per la politica, ma riappropriarci anche delle nostre fabbriche, delle nostre operai, delle nostre manifatture che sono pregiate in tutto il mondo, si pagano un po' di più, ma hanno un valore in termini di qualità e di apprezzamento mondiale che non è uguale al mondo. Quindi se ci sono imprenditori che, faccio un appello, se ci sono imprenditori disposti a mantenere le produzioni nel nostro territorio e a salvare tanti posti di lavoro e perché no a incrementare la produzione, che si facciano avanti. Questo è il momento di dimostrare veramente l'essere imprenditore italiano quello che vuol dire. Vuol dire salvaguardare e salvare un'azienda che è un'eccellenza del territorio, perché altrimenti la politica fa solo parole. Un appello che lancio dal Movimento Nazionale per la Sovranità è che se ci sono imprenditori che vogliono fare business e fare business mantenendo un'azienda sul nostro territorio che si facciano avanti, questo è il momento giusto. E allora è la settimana dell'anniversario della liberazione, noi introduciamo questo argomento venendo la prima parte del primo stralcio che abbiamo preparato da Il Silenzio Perfetto che ripercorre attraverso queste testimonianze molto toccanti quanto avvenne nel luglio del 1944, la strage della Fontaccia. Il Silenzio Perfetto Era un'annata che c'era di tutto, veramente che il Dio dice non abbandona. Era un'annata che c'era tutto, frutta, verdura, patate, c'era di tutto, di tutto, di tutto. La casa era grande, c'era il comando dei tedeschi, c'era il macello, lì al fosso attaccavano sulle bestie, ammazzavano e facevano insomma tante cose, la sera ballavano tutti, la cucina è tanta grande, andavano a prendere le ragazze, cazzo io, la dorina del Lenzi, la tea, andavano prendere le ragazze, se non venivano le ammazzavano, ha capito? Io ero un cinta, ero grossa che dovevo partorire, mi mettevano l'acqua a bollire e dopo mi mettevano a letto e mi facevo le borse d'acqua calda, creda che non passate quante... C'era degli inglesi che erano scappati, erano vicinelli alla Terena, sapete il campo appunto, il centro del comportamento, come si dice, il campo del concentramento, allora erano spaiati, andavano vedendo se potevano nascondere, siccome che un po' che si nascosero, su, pelavano il sinacolozzo, si chiama, a Londine, c'erano dei posti che ci potevano nascondere, allora tutti d'accordo, anche in un'altra famiglia, si mandava quello che si potrebbero mandare per mangiare a questi inglesi. Fuori il bando, il campo di concentramento si che, un po' che li richiapparono questi fascisti mascalzoni e quelli che si potevano salvare, un po' un po' un po' un po' l'acqua, chi è quello che li raccattava? Fossero stato anche, per dire, contro di noi, allora si era alleatico, contro di noi, chi è che mi davano un po' da mangiare. Io avevo chiappato i granchi, preso i granchi in quel posto di quelli spogliati, sali tenere, e mi provavo, curioso, dice, ora si cuociono, si mangiano, accese il fuoco, con la padella pronta, una cannonata madonna che era nel cammino, mi è rimasto il manico in mano. Dopo sentiremo invece un'altra parte sui rastrellamenti. Luca Grisolini, giovane presidente dell'Ampi, e questo, diciamo, forse è il primo aspetto che colpisce se è presidente da un anno, quasi, poco meno di un anno. Ecco, come sei arrivato alla presidenza di questa associazione che, tra quelle per Antonomasia, che ovviamente servono per incentivare, alimentare la memoria? Beh, io, diciamo che ho una storia molto particolare all'interno di questa associazione, ho ricevuto la prima tessera che avevo 12 anni, quindi si parla di un percorso lungo, io vengo da una famiglia che ha subito una strage, che è stata la strage di Vallucciole, e quindi l'avvicinanza all'antifascismo nasce, diciamo, come patologica. Poi, avvicinandomi all'associazione, dapprima ero la mascotte del gruppo negli anni dei 14-15 anni, nel 2009 sono stato alla guida della sezione dell'Ampi del Casentino, e poi nel 2016 sono subentrato alla guida storica di Amedeo Sereni alla presidenza provinciale della nostra associazione. E quindi sei arrivato, insomma, con questo percorso, appunto, che parte dalla tua famiglia. Ogni anno, ovviamente, ci sono queste celebrazioni, alcune, cioè quasi tutte, insomma, istituzionali, quindi il ricordo avviene sempre. Bisognerebbe fare qualcosa di più, secondo te, anche per una memoria forse maggiormente condivisa da parte anche dei giovani stessi? Ma io penso che il problema fondamentale stia in un clima di insofferenza e di ignoranza che vive il nostro popolo, e questo si incontra molto spesso con il fenomeno della retorica che per tanti anni è stata fatta sull'argomento, diciamo, senza invece considerare quelli che erano i veri aspetti e quelli che sono stati i veri meriti della resistenza. Certo, se ci si soffermasse di più, sia da un punto di vista istituzionale, quindi non soltanto con la mera corona, ma per il 25 aprile o per l'anniversario dell'evento, ma ci si organizzasse per insegnare nelle scuole con manifestazioni che mobilitino la popolazione intorno a quella che è stata non la storia lontana da noi, ma la storia dei nostri territori, come abbiamo visto dell'ecidio precedente in provincia d'Arezzo, contiamo decine di stragi con migliaia di morti, la provincia d'Arezzo è medaglia d'oro al valor militare, quindi questo significa che c'è da raccontare e fa parte della nostra storia e tutti da forze politiche alle associazioni come la nostra che sono chiamate alla tutela di quello che è stato il patrimonio memoriale della resistenza ai valori sanciti in Costituzione, siamo chiamati ed impegnati per il vivere civile, per essere dei buoni cittadini, a portare un messaggio extra istituzionale, mi verrebbe da dire. Cristiano Romani dice che c'è anche ignoranza nei confronti di questi temi, si ha la sensazione che a volte si tratti di celebrazioni che si devono fare, si fanno, però poi tutto finisce lì, anche perché poi viviamo in una società dove forse questi valori non sono molto rispettati. Io non lo so se si devono fare, io sono stato lungamente consigliere comunale e quindi ho vissuto il 25 aprile, sostanzialmente è un po' difficoltoso parlare perché il 25 aprile non è una festa importante, ma è una festa divisiva, è una festa che divide, non è una festa che unisce, è una festa che è una ferita profonda all'interno di una guerra civile che c'è stata in Italia, è una ricorrenza che ricorda a tutti quello che è stato il dramma dell'Italia nella guerra civile. E vedere che ancora oggi con questa festa, con questa ricorrenza si tende ancora a dividere, si tende ancora a riaprire ferite che ancora non sono chiuse, credo che sia uno sbaglio, io credo che la guerra civile sia stata uno sbaglio, credo che, come dire, siano stati commessi delle stragi inutili, credo che anche, come dire, ci siano degli errori che sono stati commessi anche da chi mi ha proceduto, dai partigiani, come ci sono stati dai nazisti, come ci sono stati dai fascisti, questa è stata una guerra civile tragica per noi, è stata una guerra civile che ha marchiato il nostro paese, credo però che si debba, come dire, leggere a tutto tondo quello che è stata questa ricorrenza, tutto quello che ha comportato questo evento, questo tragico evento, questa tragica guerra, guerra civile, e dovremmo spogliarci un po' di tutte le bandiere che abbiamo addosso, perché rimango un po' basito quando vedo che, quando si festeggia questa ricorrenza, ci sono solo bandiere rosse con la falce e il martello. Mi piacerebbe vedere più bandiere tricolori, il tricolore unisce, la falce e il martello o i simboli di partito dividono. Una festa troppo divisiva, dice Cristiano Romani, è troppo rosso. Tanto in piazza nessuno vieta di portare le bandiere, quindi Romani può tranquillamente portare le bandiere del tricolore, come tra l'altro ce ne sono, io ho sfilato per tanti anni il 25 aprile con il tricolore al collo, dove non c'erano vessili. Credo che anche Lampi abbia il tricolore come elemento fondamentale del proprio movimento. Il tema reale è che ogni anno, il 25 aprile, è il pretesto, come poco fa ha testimoniato Romani, per un revisionismo storico, perché noi dobbiamo leggere la realtà per quella che è stata, perché noi non possiamo negare la pietà nei confronti di tutti i morti, sia i morti nazisti, sia i morti fascisti, sia i morti partigiani, sia i repubblichini, però dobbiamo allo stesso tempo dire chi era nel giusto e chi era nello sbagliato, cioè chi ha liberato l'Italia da un oppressore, prima dittatore, che ci ha portato in guerra con un successivo oppressore nazista e chi stava invece dalla parte del torto, ma l'ha fatto magari in buona fede, credendoci, non necessariamente in cattiva fede. Però questo è indispensabile, perché se non partiamo dalla verità di quello che è accaduto, perché è troppo semplice dire che c'è stata una guerra civile, c'è stata sicuramente una liberazione del nostro paese da chi per 25 anni lo ha portato in una guerra fratricida, in una guerra che ci ha portato alla sconfitta, all'indemolimento del paese e che ha negato tutte le libertà fondamentali civili, oltre che politiche, istituzionali e quant'altro. Era vietato qualunque cosa durante il fascismo. Ecco, io penso che ripartendo da lì il 25 aprile può tornare ad essere come lo è nei fatti, è una festa di popolo, è una festa che unisce gli italiani di fronte ai diritti fondamentali del cittadino. Poi c'è chi ogni volta cerca il pretesto per non esserci e per strizzare l'occhiolino a quei movimenti che ancora magari all'interno del movimento fascista trovano un qualche riferimento, un qualche sterile, anzi pericoloso richiamo anche nella democrazia di oggi. 25 aprile che in provincia di Aghezzo ha voluto significare mediaticamente parlando la visita di Matteo Genzi. 101, grandissimo, grande, grande. Buon applauso. Comincia così con il saluto al partigiano Piero Baldi il 25 aprile dell'ex premier Matteo Renzi che sceglie Cavriglia per ricordare la liberazione. La commemorazione è davanti al cippo che ricorda l'eccidio di Castelnuovo dei Sabbioni. Qui il 4 luglio 1944 vennero uccise 192 persone. Ho visto la gente impiccata e il mio nonno morto da fedeschi in piazza. Con l'ex consigliere regionale Enzo Broggi sempre al suo fianco, Renzi raggiunge il teatro comunale di Cavriglia. La parola guerra non è un videogioco, non è un film, è un qualcosa che è esistito ed è tatuato come una cicatrice nella pelle delle persone più anziane. Oltre ai tanti cittadini a seguirlo c'è tutto lo stato maggiore del PD toscano e aretino. Si entra subito nel tema primarie con una stoccata agli scissionisti. Quando qualcuno se ne vuole andare si prova a dirgli fino all'ultimo rimani, 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 alla fine si fa ciao, bocca al lupo, buona strada. Perché noi non possiamo permettere a nessuna minoranza di bloccare il cammino dell'Italia. Grillo dice uno vale uno, poi vince quell'altro e dice no questo è un migarba. Dall'altra parte Berlusconi non ha mai avuto particolare sensibilità diciamo sul tema. Decidono, si prende questo e quello. Noi siamo diversi. Renzi affronta anche lo scandalo Consip e non è mancata la polemica sull'Europa. Non i blog grillini, non gli aspiranti stregoni, le persone deputate cioè i magistrati vadano rapidamente a sentenza perché noi caro Enzo la parola onestà non la lasciamo in prestito a nessun altro. Siccome noi tutti gli anni diamo 20 miliardi di euro all'Europa e ne prendiamo indietro 12, io per tre anni glielo ho detto con le buone. Adesso, e devo dire che il governo Gentiloni ha accettato questa linea, c'è un modo molto semplice per risolvere il problema. Voi non mantenete l'impegno sui migranti? Benissimo. E noi non manteniamo l'impegno sui soldi. Ultima tappa al Circolo PD di Cavriglia intitolato ad Enrico Berlinguer. Allora David, come vedi questo mix tra 25 aprile e poi quella che è la campagna, visto che adesso ci sono le primarie domenica e quindi unire nel 25 aprile le primarie e poi alla parte quella di omaggio alle vittime? Io vorrei fare... la domanda che mi pongo è questa fondamentalmente e dopo cercherò di... Allora, la memoria dei fatti di più di 70 anni fa ha ancora un senso o no? E soprattutto che senso ha vedendo anche questo tipo di manifestazione? Allora, io dico questo. Intanto parto da un presupposto. Quei monumenti che oggi noi andiamo a visitare il 25 aprile nella stragrande maggioranza sono monumenti che sono stati costruiti subito dopo la prima guerra mondiale e erano stati costruiti proprio dal duce. Avevano una funzione completamente diversa, servivano da propaganda. Quindi si esaltava il sacrificio dell'uomo per la patria e quindi un significato esattamente opposto a quello attuale. E c'erano proprio famiglie che avevano perso tanti figli e tanti figli proprio nella prima guerra mondiale e quindi ogni anno c'erano queste manifestazioni, queste famiglie venivano fatte schierate e quindi veniva esaltato proprio il sacrificio per la patria. Ora, finita la seconda guerra mondiale, quei monumenti hanno cambiato significato, sono diventati dei monumenti alla memoria. Quindi oltre che sui carri si sale anche sui monumenti? Di solito si sale le carri poi, no? E' una scelta, è una scelta. Quello che volevo dire, però vorrei aggiungere che il 5 maggio si festeggia la liberazione dell'Etiopia dall'Italia, chiaramente, così come la Libia ha un altro giorno, in Montenegro altri giorni. Perché dico questo? Perché qui c'è un problema, secondo me, in questo paese. Prima Romani sollevava la questione del valore dei morti, no? E quindi se apparteneva un lato all'altro. Il problema è un altro, secondo me, che nel nostro paese non è mai stato fatto i conti con la storia. Cioè il nostro paese, per una serie di fattori esterni, e quindi il fatto che finita la seconda guerra mondiale era stato, diciamolo pure, liberato o occupato dagli anglo-americani e doveva far parte dell'Occidente e considerato che all'interno aveva un forte partito comunista e confinava con la Jugoslavia, che invece faceva parte del blocco sovietico, si è deciso di non sottoporre a un giudizio storico quello che era successo nel ventennio precedente. E questo è il dramma di questo paese. Quindi vengo alla risposta. Cioè non sono stati fatti quei processi come chiedevano questi paesi, a cominciare dall'Etiopia, a cominciare da tanti anni, a tutti i nostri vari comandanti, che hanno fatto veramente delle cose terribili in quei paesi. Perché in Etiopia abbiamo... Oggi ci si scandalizza che viene tirato il gas in Siria, ma noi, io penso che l'Etiopia l'abbiamo irrorata di gas, cioè... Sì, ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Quindi l'idea degli italiani brava gente è un'idea che va sfatata. Non è vero che gli italiani sono stati brava gente. Gli italiani dove sono andati ne hanno fatte di cotte e di crude. Sicuramente molto meno dei tedeschi. Ma, ribadisco, non c'è stato un giudizio oltre che... Un giudizio proprio storico. Cioè si è deciso di chiudere negli armaghi perché l'Italia non poteva sostenere politicamente un giudizio, un processo al periodo fascista. Allora vengo alla risposta. Ora sono passati 72 anni e mi rendo conto che ancora non si riesce serenamente a fare un processo di quello che è avvenuto in quel periodo e si strumentalizza da un lato e dall'altro. Perché secondo me, io non voglio dire che in quel periodo non siano state fatte cose atroci anche dai partigiani, anche da... Lo sappiamo, cioè era una guerra e sicuramente c'è stato tanti aspetti negativi che io non sono in grado né di analizzare non credo che sia a questo momento però purtroppo noi, per esempio a differenza della Germania dove è stato fatto questo processo e la situazione politico-sociale in Germania è completamente diversa Romani scrolla la testa no, la Germania c'è un altro problema che ha inglobato la Germania dell'Est la quale, come noi, non ha avuto un processo simile non c'è stata un'analisi serena e seria di quello che era successo che ribadisco gli italiani nelle colonie non erano andati a portargli la cultura e il benessere ma questo non solo nel periodo fascista anche nel periodo precedente la prima invasione della Libia dobbiamo ricordarci ci abitava in Libia 800.000 persone dopo 10 anni di occupazione erano ridotti a 120.000 cioè non solo erano tutti nomadi in quella regione non c'era né uno stato né niente erano tutti nomadi e fu deciso questo nel periodo fascista che dovevano diventare stazionari furono presi e messi in dei recinti cioè perché si dovevano abituare a non si muovere più e in queste condizioni questa gente che non era abituata i più sono morti sono stati ammazzati quindi non è che siamo brava gente noi non siamo brava gente quando ci troviamo in certe circostanze credo che siamo come tutti gli altri e questo non giustifica né non giustifica secondo me una revisione di quel periodo né in senso positivo né in senso negativo ma credo che dobbiamo smettere di credere che quel periodo sia stato un periodo idilliaco quel periodo ha molti aspetti negativi era una dittatura sicuramente era una dittatura anche illuminata per alcuni versi ma era pur sempre una dittatura la gente veniva deportata e soprattutto ci ha portato a una guerra con milioni di morte distruzioni sofferenze e questo non ce lo dobbiamo dimenticare quindi concludo la risposta quando io oggi vedo che i ragazzi di 15, 16, 17 anni comprano le figie del Duce o dicono di essere di ammirare il Duce allora dico a me purtroppo questo paese non fa non riesce a fare un'analisi seria perché a questi ragazzi gli va fatto capire che purtroppo anche se sono passati 70 anni se da un lato sentono il bisogno di mettersi la spilla del Duce vuol dire che bisognerà fargli anche spiegare cosa ha fatto quell'uomo perché se no non si riesce ad andare avanti Volevo tornare con da Luca abbiamo visto appunto il filmato di Renzi aiuta diciamo la causa del 25 aprile quando comunque un ex premier viene in un territorio colpito e che ha avuto tante vittime quindi diventa veicolo mediatico anche del ricordo oppure paradossalmente invece può diventare non voglio dire una strumentalizzazione ma insomma un palcoscenico poi politico è una risposta abbastanza divisa diciamo che la partecipazione senza dubbio di un partito che si dichiara dalla sua fondazione come partito antifascista una manifestazione del genere è comunque un dato positivo francamente tornando a quello che diceva Romani il problema non è che ci sono troppe bandiere rosse il problema è che non ci sono altri partiti che sentono la necessità di portare di rivendicare un antifascismo semmai e portare le proprie bandiere per conto mio per il 25 aprile in piazza ci dovrebbe essere soltanto la bandiera però questo è un fatto sulla presenza di Renzi appunto io l'ho scoperto l'ultimo giorno di questa cosa io avrei evitato il momento politico avrei evitato il momento politico in una ricorrenza come questa però ognuno diciamo è libero in sua coscienza è una festa della libertà fondamentale voglio un punto ci tendo a specificare la violenza abbiamo parlato di violenza relativa all'antifascismo sui fascisti innanzitutto c'è da puntualizzare questo se oggi esiste un neofascismo o persone che possono ammettere e dire pubblicamente che ci sono stati dei crimini e che rivendicano una propria identità che è quella fascista lo devono essenzialmente ai partigiani a quella che è stata la missione di conquista delle libertà e dei valori fatta dalla resistenza quindi paradossalmente i primi a dover festeggiare 25 aprile i partigiani sono quelli che oggi si dichiarano neofascisti che in un regime come quello che imitano o vorrebbero imitare non avrebbero avuto alcuna dignità di stampo sociale non l'avrebbero nemmeno in Italia da un punto di vista legale per quelle che sono la legge costituzionale e la legge scelba in particolare la pubblicità poi rispondiamo voglio sentire anche voi ovviamente su Renzi e poi vediamo anche la seconda parte del silenzio perfetto tra poco seconda parte del negozio bianco dedicato alla liberazione alla memoria al senso che ancora oggi può avere se ce l'ha ovviamente continuare tutto quello che insomma è stato fatto in questi anni si parlava prima della giornata di Renzi ad Arezzo poi Orlando è andato a Stazema abbiamo visto analogo percorso Massimilio Dindalini diceva Luca Grisolini prima forse evitare la parte politica poteva essere consigliabile semplicemente per precisare come si sono svolti gli appuntamenti perché Renzi è venuto a Caviglia per presentare la propria mozione nella campagna congressuale è stato promosso e pubblicizzato questo evento che si è svolto al teatro di Caviglia abbiamo pensato visto che questo evento si svolgiva il 25 aprile che prima di quella iniziativa delle caratteristiche politiche che non aveva alcun riferimento con il giorno della liberazione lo possiamo vedere su internet sui manifesti sul materiale di propaganda che è stato messo in giro per promuovere quell'incontro prima di quell'iniziativa in forma non pubblicizzata i giornalisti che erano presenti lo possono testimoniare c'erano solo alcuni abitanti di Castel Nuovo dei Sabbioni presenti a quella celebrazione Matteo Renzi ha inteso rendere omaggio privatamente perché in questo momento non ha cariche di partito al monumento a caduti in quella fase è stato accompagnato dal sindaco dall'ex consigliere Enzo Broci dal sottoscritto dal segretario del PD dell'Unione Comunale di Caviglia quindi non c'è stata nessuna volontà di affiancare la commemorazione del 25 aprile alla presentazione della mozione cose completamente diverse dall'altro lato però credo che sia anche legittimo e anzi credo che sia doveroso che rappresentanti politici di livello nazionale e non solo di primo piano comunque conosciuti personaggi pubblici rendano omaggio ai vari monumenti ai caduti che sono sparsi per l'Italia che sono tantissimi credo che sia importante un segnale di attenzione lo ha fatto Renzi lo ha fatto Andrea Orlando a Stazema lo ha fatto Emiliano a Roma ricordando i caduti lo hanno fatto altre rappresentanti politiche Brunetta era la manifestazione a Roma assieme ad altri del centro-destra che hanno partecipato alle cibrazioni del 25 aprile di un corteo anziché di un altro ma secondo me il gesto che Conte la presenta l'attenzione a questa importante giornata e credo che sia importante e doveroso viceversa non farlo consente quell'oblio a cui ci richiamava Davide che invece secondo me è fondamentale il processo storico di quello che è stato anche il fascismo e il nazifascismo e le responsabilità che il fascismo ha avuto anche nella nascita del nazismo nel propagarsi della storia del nazismo in Europa sono fondamentali gli accordi che ci sono stati il percorso storico cosa che effettivamente purtroppo ha trovato e ha un vulnus nei programmi della scuola ad esempio Cristiano Comani scuoteva il capo prima a proposito di Cappello si parla di resistenza si fa vedere Renzi che come dire mette il cappello sulla manifestazione sull'evento poi parla di primaria parla di Europa eccetera eccetera il cappello al quale mi riferivo prima quindi una strumentalizzazione politica di una però posso scusa posso io non ho interrotto nessuno quindi credo che questa sia però voglio fare una domanda se mi è concesso ai miei due interlocutori chi è che ha istituito la festa del 25 aprile 25 aprile nasce il 25 aprile ma chi l'ha istituita con la liberazione dell'Italia ma chi l'ha istituita in che senso chi l'ha istituita una festa della Repubblica che riconosce no vede voi parlate di cose che non conoscete le conoscerai tu no no le conosco io le conosco io le conosco lo sai perché se mi posso permettere così aggiungiamo un po' di colore aggiungiamo un po' di colore la festa del 25 aprile è stata istituita in uno degli atti da Umberto di Savoia Umberto di Savoia con un decreto con un luogotenente di generale del regno con un regio decreto ha istituito la festa del 25 aprile questo è l'atto suo quindi questi signori parlano di tanto di festa di conoscere profondamente come dire il significato importante di questa festa non sanno nemmeno quando è stata promulgata quando è stata fatta per legge tra l'altro scusa però posso dire però posso dire però ragazzi mi interrompete io non ho interrotto nessuno io non ho interrotto nessuno per cui vorrei parlare liberamente come voi avete parlato allora allora questo qui è loro parlano di cose di cui non conoscono nemmeno il fondamento ma a parte questo quindi cosa vuoi dire si parla si parla tanto si parla tanto come dire della pietà mi fai finire parla perché sei così nervoso perché sei stato punto nel vivo perché non conoscete le cose non conoscete le cose e invece bisognerebbe come dire conoscerle nel profondo ma si parla tanto di pietà l'interesse umana dei morti eccetera intanto Umberto Prima ancora è morto ed è all'estero perché intanto non si fa rientrare il regnante l'ultimo regnante della 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 monarchia e anche questo secondo me è uno sbaglio potrebbe pacificare molto diciamo l'animo nazionale questo secondo me ma soprattutto c'è un altro conto noi si parla tanto di come dire di partigiani di liberazione giusto ma non si qui non ho sentito dai miei dai miei interlocutori parlare anche dei crimini perché qui si è parlato dei crimini dei fascisti nazisti giusto giustissimo ma non si è parlato dei crimini che sono stati compiuti a guerra finita io invito i miei due interlocutori a leggere il libro di Panza il sangue di Vini che parla che parla no non c'è nessun ripeto ancora una volta dimostri di essere ignorante perché ignori perché non l'hai letto perché non l'hai letto lì non c'è nessun revisionismo c'è la cronaca fredda e lucida di quello che è stato compiuto nel triangolo della morte e badate bene che non si dava la caccia solo ai fascisti ma si dava la caccia ai preti si dava la caccia ai democristiani si dava la caccia ai liberali si dava la caccia anche ai bambini che avevano la sola colpa di essere magari stati figli di fascisti ecco come se tutto questo potesse essere passato sotto silenzio se noi bisogna fare pace e bisogna capire quelli che sono stati i nostri fondamenti anche della Repubblica dovremmo interrogarci tutti su quello che è realmente avvenuto da una parte e dall'altra perché qui mi sembra che invece facciamo ricicare so chi vuole cominciare Luca io penso che il mio interlocutore capisca bene che per chi come me ha avuto una famiglia sterminata dai fascisti il problema delle morti causate dai partigiani nel dopoguerra sia assolutamente secondario lo è assolutamente anche storicamente è proprio secondario molto bene mi fa piacere chi ha guidato le truppe tedesche la maggior parte degli ecidi portati avanti nella nostra provincia sono stati fascisti locali non soldati appartenenti a reggimenti o corpi della Repubblica Sociale Italiana ma fascisti locali che avevano incarichi politici e che non sono stati processati o sono stati amnestiati riguardo al Nord Italia ci sono stati degli eccessi quello succede storicamente in qualsiasi guerra civile che porta all'annullamento in Italia questo annullamento francamente non c'è stato in una misura potente se si va a vedere cosa è successo in Francia e in Germania la situazione è tutt'altra in Francia i prefetti le cariche politiche gli albertici della polizia sono rimasti allo stesso posto nonostante la collusione che avevano quel regime quindi io mi trovo perfettamente d'accordo con il ragionamento di prima per cui in Italia non si è mai fatto un conto vero e proprio con il fascismo ci sono stati gli eccessi ma va visto quello che era stato il clima provocato dai fascisti le foibe come le legge lei le foibe lei legge le foibe considerando soltanto l'evento tragico drammatico e criminale ma chi mi parla ma chi mi parla delle foibe da una determinata parte politica mi dice che le foibe sono state aperte dai fascisti o no mi viene dito per caso quello che è stato il progetto di italianizzazione delle foibe processo di italianizzazione non cambiate mai siete sempre uguale del Friuli-Venezia-Giulia Friuli-Venezia-Giulia inteso anche Trieste non soltanto fiume questo le cito un altro libro molto letterario Wumming poi in Telenana c'è un bel punto sul CAI e la storia del CAI di una vicenda particolare in cui si parla del processo anche di italianizzazione dell'Iste e della Dalmazia le violenze le limitazioni delle libertà arrivate addirittura a eliminare il cognome originale degli slavi tramutati in italiano non è giustificato niente all'interno di una guerra storicamente si deve considerare quali sono le conseguenze io penso che in Italia sia mancata a differenza che in tanti altri stati una pulizia che fosse giudiziaria rispetto ai crimini del fascismo lo penso assolutamente la giustizia per quanto la possano aver fatta rispetto a quelle che sono state le violenze le violenze portate avanti nelle comunità locali come le nostre e parla vivo parlano vivo stragi come quelle di Vallucciole parla vivo altre stragi che sono state fatte nel nostro territorio e parla vivo la documentazione storica se consideriamo che il 95% di tutte le stragi compiute in Italia dato riconosciuto dallo Stato germanico non vengono procurate da azioni partigiane ma sono operazioni militari portate avanti per altri sentiamo la replica anche di Massimiliano veloce veloce se mi consenti devo prima dire al signor Romani che prima di dare dell'ignorante a me si sciacqui la bocca semplicemente perché io non sono mai stato in qualunque forma tu lo faccia semplicemente perché hai trovato su internet un decreto di Umberto Prima dovunque tu l'abbia trovato comunque sia il 25 aprile nasce il giorno della liberazione con una grande festa di popolo e il fatto che il re lo abbia proclamata come hai detto non va sicuramente ad assumersene il merito perché il merito è di chi ha liberato l'Italia il 25 aprile e permettimi da chi per 10 anni da sindaco vabbè io non ti ho interrotto se non per dirti due volte ora l'hai fatto già tre volte quindi inizi a sciacquarti la bocca a tenerla in bocca un attimino per consentirmi di dirti quello che penso siccome dal mio profilo politico e personale non hai come dire possibilità di dire in alcun modo quello che hai detto fino a prima perché io sono sempre stato un coerente antifascista a differenza tua che non ti sei mai dichiarato antifascista e credo che non lo farai neanche oggi penso non abbia problemi a dichiararsi fascista esatto esatto quindi iniziamo a mettere i puntini su lei in secondo luogo vorrei ricordare che il sottoscritto ha fatto il sindaco di Civitella in Val di Chiana e per 10 anni dal sindaco prima dal libero cittadino ho ricardato quegli oltre 250 vittime civili donne bambini e anche il parroco di Civitella che ha tentato di sacrificarsi per tutti che non è stato ucciso dai partigiani ma è stato ucciso dai nazifascisti che sono venuti ad occupare quella comunità e non ti permetto di parificare le cose come hai fatto banalmente e in modo viscido prima perché è una cosa indegna soprattutto nei giorni di ricordo del 25 aprile e dei sacrifici che hanno fatto in questa nostra provincia tante cittadini tante famiglie che è decorata come veniva ricordata prima al Valor Militare e tanti comuni con medaglia d'oro al Valor Civile proprio per il sacrificio che hanno dato mettere sullo stesso piano e dare il merito al re di aver individuato il 25 aprile come festa della liberazione è un'offesa a cittadini liberi democratici ed antifascisti quindi mi ritengo politicamente offeso dunque io lo so che te ne freghi vorrei vedo qui di gente abbastanza giovane quindi vorrei raccontare una parte di settoria che forse poi è stata anche un po' travisata dalla politica ecco io la signora che ha detto che era incinta che era grossa era la mia mamma e quindi ecco io sono nato in quel periodo e ho vissuto diciamo subito ero io lì dentro e quindi quanti anni hai io ho 72 quanti quanti precisi e mi ricordo che diciamo da ragazzo appunto di queste cose se ne parlavano ne parlavano tutto quindi ecco i nostri vecchi i nostri vecchi e poi anche i nostri giovani che avevano vissuto le stragi io l'ho vissuta nel corpo della mia mamma però c'erano quelli che le avevano vissute in modo vero insomma ecco e mi avevano raccontato e parlavano con disdegno di tutto ciò che era successo e era successo perché c'era diciamo un esercito che a un certo punto si è messo a sterminare a fare delle cose che c'era dei partigiani che cercavano in qualche modo di difendere di arginare queste cose e poi dopo successivamente piano piano le cose hanno preso due strade diverse quindi la politica chiaramente se le è appropriata nel modo che voleva e quindi ci sono stati i vari rami di questa pianta che sono andati ognuno per i fatti suoi io credo però che l'importante sarebbe dire che questi sono stati momenti brutti momenti che vale la pena di ricordare solamente per dire che erano fatti brutti poi la politica di chi è stato e di chi diciamo ha fatto più o meno chiaramente credo che bisognerebbe cercare di smorzare un pochino gli angoli e cercare di fare in modo che piano piano si prenda la vera strada appunto della liberazione e della demorazione vediamo la seconda parte di questo filmato il silenzio perfetto sulla strage della Fontaccia è la parte più drammatica di quello che poi è stata appunto questa strage vediamo allora la notte si sentì siccome c'erano dei soldati tedeschi a dormire su nei fondi nelle cantine capito? nelle cantine loro sapevano che famiglia era tutti insieme questi pollati non c'era nessun partiziano nessun fascista capito? allora vennero vennero questa gente col buio perché c'era manco la luce c'era col lumino e sentivo un grave lo sarà letto tutto letto sentivo fuori 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 l'uomini i bambini le donne in casa fuori tutti l'uomini fuori tutti l'uomini e si invegliò l'uomini l'avevano mandato fuori tutti però ne mancava due devo dire non sapevano chi era che dovevano pigliare e chi c'era c'essi capito? allora dissero e questi qui poi lì si nascondevano volevano saltare la soffitta e le presero pregando le tirarono su dalla soffitta e presero e li portarono via allora era Martinelli oddio Nello Martinelli Nello ora però quell'altro era il genero questo Martinelli era il genero era il marito della figlia ha capito ma si chiamava Renato ma non mi ricordo il cognome ha visto allora ha preso questi due e il soci e c'erano e le sono lo visero lo portarono via ha visto tutti quei altri si salvavano perché sono avanti questo genero col polo Mario di Castiglioni un giovane e con questo cello del Martinelli le piccarano a Manu Livo proprio sotto il monumento c'era dei Lulini uno qua uno là e le piccaro tutti e due insieme si guardavano io l'ho visto avanti che le bastano ho visto tutto allora queste le piccaro adesso sento io un breccio un lamento loro lamentavano perché avevano visto che che gli doveva succedere a questa gente capito gli fece fare prima la buca poi le misero sotto in fila e le mette un gruppo di questi che avevano rastrellato l'americiano e si capì ci fecero capire di quello che era successo e quindi che questi erano stati già alla fontaccia le avevano fatti fare questa buca nel campo sopra il muro sopra il greppo e l'avano fatti mettere tutti dentro questa buca tutti abarcati dentro questa buca meno i due impiccati però noi se vede andando io con le inizie saldo verso la fontaccia per vedere insomma se era capito da questi non è che ci erano detto tante cose perché erano inquadrati con le sentinelle tedesche che li seguirono armati insomma e allora saldo là e si trovò quello che si trovò si trovò se vede i due che erano attaccati all'olivo impiccati questo era Carmetti Renato e Mario Berlampini e quell'altro avevano tutti tutta una barca dentro una buca Davide cosa volevi aggiungere andiamo a capire volevo aggiungere che a me fa molto male vedere i nostri ospiti sono abbastanza giovani e vedere ancora questo muro contro muro perché evidentemente credo che scusa ma si parla tra fascismo si no 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 ma io non è un dialogo tra posizioni ma se mi fate parlare allora hai ragione ribadisco che a me piacerebbe che ognuno pure nelle sue convinzioni nelle sue posizioni ci fosse un punto fermo che intanto ci auguriamo tutti che quel periodo non torni e non ci ritroviamo a vivere quello che si è vissuto in quel momento perché non credo che nessuno si auspichi di ritrovarsi in quei momenti che evidentemente vanno anche storicizzati perché si è parlato di tante cose della questione dell'ex Jugoslavia e si è parlato però ci dobbiamo va storicizzata la questione cioè fino agli anni 60 ci sono state le colonie non nostre che noi le abbiamo perse con la seconda guerra mondiale ma l'Inghilterra la Francia l'Olanda il Portogallo hanno avuto le colonie fino agli anni 70 e è proseguito quella comportamento cioè le colonie non è che venivano venivano la gente colonizzata veniva colonizzata e quindi c'erano effettivamente dei comportamenti che noi oggi rifiutiamo ma per fortuna allora quello che io voglio dire quindi mi auguro a me dispiace che il 25 aprile non sia un momento di unione e quindi mi rivolgo soprattutto alla destra che faccia un esame di coscienza anche quando i romani prima si scandalizzava ma secondo me giustamente che Renzi va a fare una campagna elettorale il 25 aprile ecco però la destra non la rifiuti questa festa la destra comincia a dire è anche la festa della destra perché nessuno di noi vuole che i giovani per le loro idee politiche siano giuste siano sbagliate debbano perdere la vita e che si ritorni in questo paese a vivere quei momenti che sono drammatici e ripeto va rifiutato di ritornare a uno scontro come quello perché non ci ha fatto bene ma io sono assolutamente d'accordo tanto è vero che il nostro consigliere comunale Guidiarezzo è andato al cimiterro di indicatore proprio per rendere omaggio a quei giovani quei tanti giovani che dettero la loro vita combattendo contro il nazismo e il fascismo questi erano soldati che sapevano di andare incontro ma lo facevano incontro alla morte ma lo facevano con un grande spirito di sacrificio posso dirti romani ti scusano ricordiamoci che parecchi di quei che noi diciamo inglesi non sono inglesi erano ragazzi delle colonie che erano costretti sono stati costretti a venire a fare la guerra per liberare noi quindi ricordiamocelo perché ma infatti noi vedi il problema diciamo la grande differenza tra me e i miei due interlocutori è proprio questa che è una grande libertà mentale infatti non ho avuto se voi siete stati attenti qualcuno sia stato attento a quello che ho detto ci sono stati crimini da parte dei nazisti dei fascisti ma anche dei partigiani perché ci sono stati io non ho sentito dai miei due interlocutori le stesse frasi addirittura qualcuno giustifica le foibe qualcuno diceva beh e dice e dice e dice qualcun altro diceva beh ma sai gli effetti collaterali la guerra finita per un anno e mezzo si continua a ammazzare la gente erano effetti collaterali non è così finché non si fa come dire veramente i conti con la storia non si pacificherà mai questo paese questo è il grande dama tra l'altro e poi mi zitto fanno tanto i difensori della liberazione giustamente soprattutto il segretario del PD di Indalini quando permette con il suo governo alla Germania di fare ciò che Hitler non ha potuto fare nel 45 nel 40 e ha fatto la stessa cosa che sta facendo Angela Merkel oppure parlano tanto di liberazione di un'Italia libera e quotidianamente ci fanno invadere da milioni di immigrati quindi questo credo che sia come dire un po' una faccia con la doppia medaglia questo è il ponte al di là di questa tua professione il ponte che volevamo non il ponte del 25 mila ma il ponte diciamo argomentativo che volevamo poi portare alla fine della trasmissione cioè se tu hai espresso questo giudizio molto critico cioè tu dici i valori di cui si riempiono la bocca poi non trovano applicazione delle politiche del governo o del governo tedesco in questo caso vabbè Romani si dimostra ignoranti dal punto di vista storico perché Hitler in Italia ci è venuto perché ce l'ha portato Mussolini e l'ha fatto governare anche l'Italia perché è stato invasore da cui ci siamo liberati insieme prima Mussolini poi Hitler il 25 d'aprile perché eravamo alleati di Hitler grazie a Mussolini sì appunto comunque credo che rifuggo ancora da antifascista convinto e che penso che sia David impossibile fare in modo che i fascisti vadano a festeggiare il 25 aprile perché semplicemente è la liberazione anche dal fascismo quindi dalla loro ideologia quindi chi ha ancora quelle ideologie dentro di sé credo che non andrà mai a festeggiare il 25 d'aprile poi è anche singolare che come dire chi cerca l'alibi per tutti i 25 aprile è andare a salutare e a omaggiare solamente una parte dei caduti tant'è che si va a salutare come dire quelli che giustamente hanno contribuito alla liberazione dell'Italia che non sono italiani che va benissimo è sacrosanto dovere farlo ma mi domando anche perché non anche gli italiani che sono caduti dopodiché penso che sia altrettanto sbagliato mettere sullo stesso piano i crimini nazifascisti durante prima della guerra perché i fascisti hanno fatto crimini repressivi nei confronti di cittadini italiani liberi prima della guerra poi c'è stato il periodo del nazifascismo della guerra dove sono stati fatti crimini ancora peggiori che hanno portato non solo alla carcerazione ma alla morte di tanti cittadini italiani quindi non militari e in secondo luogo penso anche che sia sbagliato confondere questi crimini con i crimini alcuni dei quali hanno commesso i partigiani soprattutto nel nord Italia per i quali sono stati fatti i processi e siamo andati a sentenze cosa che invece per i nazifascisti i romani fammi finire c'è stato bisogno che qualcuno il procuratore in Telisano scoprisse all'interno del ministero degli interni un armadio un armadio con le ante rivolte verso il muro dove dentro c'erano i fascicoli con i criminali che avevano fatto stragi anche nel nostro territorio per i quali grazie a Telisano e a procuratori attenti come fu il procuratore De Paulis siamo arrivati anche se 60 anni dopo ad una sentenza e qui David consentimi almeno da questo punto di vista la storia ha compiuto il suo corso sia quella giuridica che quella della ricostruzione allora vi faccio vedere veloce loro i torturatori e quelli che uccidevano la gente inel mi l'hanno fatti onorevoli quindi lasciamo perdere stendiamo un velo pietoso stendiamo un velo pietoso ma ancora stendiamo un velo pietoso sì sì grazie partigiani sì no allora vediamo sicuramente sì può parlare grazie a loro sì non direi prof non hai dignità politica se non fosse per la democrazia non direi prof allora vi faccio vedere adesso due cose una è questa del cimitero che vediamo tra un attimo ma prima nella nostra trasmissione SOS Saghezzo TV siccome sapete che la cerimonia dell'alza bandiera viene fatta lì a poggio nel sole e viene fatta però in un luogo dove le scritte le scritte della memoria diciamo così sono totalmente decadenti vediamo questo stralcio che abbiamo fatto con Beppe Marconi è appena passato il 25 aprile caro Beppe che noi veniamo a festeggiare ragione dopo al di fuori di tutto il giro di gente di discorsi di tanta retorica che c'è stata bravo oggi veniamo a fare a omaggiare il 25 aprile in silenzio però se c'è la telecamera in un posto del genere che è un sacrario ai caduti della seconda guerra mondiale e alla resistenza di fronte di fronte a questo bellissimo palazzo di Michelucci in questo sacrario la memoria è un po' menomata perché non si legge più la scritta abbiamo fatto qualche tentativo di scrivere la penna col pennarello però dopo è veramente osceno è veramente osceno anche coloro i quali vengono qua a commemorare questa giornata che si trova davanti questa cosa veramente fa pena che abbia un soldo un euro per riscrivere così come si deve togliamo togliamo le lettere in non so che materiali sono sono ferro ottone e così via e scriviamole per bene o rimettiamole per bene non so se come ampi vi potete fare portatori insomma si ne abbiamo già parlate con il sindaco con la vicepresidente Guarino comunque se ne occuperà la sezione anche nel caso la sezione cittadina di Arezzo guidata da Gianni Sarrini vediamo allora questo breve stralcio appunto c'era stato il consigliere Angelo Rossi che il giorno prima del 25 aprile aveva fatto una nota dicendo che anche quest'anno sarebbe stata ignorata la diciamo la la cerimonia di commemorazione delle vittime che sono sepolte a indicatore nel cimitero del Commonwealth l'associazione Libera Aperta invece da anni si recava in modo solitario diciamo a rendere omaggio anche a queste vittime quest'anno c'era anche il sindaco vediamo un attimo commemorati commemorati nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile anche tutti i soldati che hanno contribuito alla liberazione della città e della provincia di Arezzo e che riposano nel cimitero del Commonwealth di Indicatore sei anni fa noi di Libera Aperta venimo qui in questo cimitero eravamo assolutamente soli piano piano abbiamo costruito poi si sono avvicinati i paracatutisti e abbiamo fatto una cerimonia sempre più grande addirittura quest'anno sono venuti qui anche il presidente Vasai il sindaco di Arezzo il corpo con il gonfale dei vigili urbani siamo felicissimi di questo perché noi vogliamo onorare tutti i morti della resistenza allora Luca che tutti i morti della resistenza Luca Grisolini cosa voleva aggiungere? io volevo precisare riguardo alla presenza che secondo me è sacrosanta al sacrario del Commonwealth che la data e la deposizione di fiori al cimitero è prevista da cerimoniale da anni all'interno delle celebrazioni del 16 di luglio per la liberazione mentre invece la data del 25 aprile visto la numerosità dei monumenti presenti intorno alla città di Arezzo implica che ci sia un ricordo da parte dell'associazione di quel momento quindi benissimo comunque c'è da fare presente questo allora il cerimoniale viene deciso unitamente deciso se ne discute ma più o meno è lo stesso da Ampi dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane dal Comune di Arezzo e dalla Provincia di Arezzo se qualcuno si fosse espresso in tempo rispetto a questa necessità con chi di dovere dei suoi uffici comunali poteva essere inserito e sicuramente dall'Ampi e penso di parlare anche a nome del Presidente Mangiavacchi delle Confederazioni delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane avrebbe avuto problemi penso ci sia un'eclatanza del gesto per esempio i paracadutisti che hanno scelto per loro volontà di andare a festeggiare il 25 aprile io non li ho visti nelle file di chi festeggiava il 25 aprile a Poggio del Sole quindi cioè ci sono queste situazioni un po' miste che forse sarebbe bene chiarire io sono d'accordissimo una cosa però sul paragone dei Romani che mi parla di un'invasione nuova come bene ha ricordato è stato ricordato prima di me appunto quei giovani non sono tanti inglesi sono indiani sono polacchi sono popolazioni che ora visibilmente rappresentano il problema sudafricani neozelandesi australiani slavi in provincia d'Arezzo c'erano tre campi di prigionia questo è un dato che non si racconta Laterina Renici Villa Oliveto e Colle Ascensione a Poppi dove sono morte parlo soltanto del campo per esempio di Laterina più di 250 persone appartenenti appunto a Slavi quindi per ricollegarsi in tutto questo ci dovrebbe portare a capire quello che è lo spirito della resistenza è vero giusto gratificare questi soldati che sono morti ma anche a capire bene da chi scappa da un contesto di guerra e chi scappa da un contesto di miseria io non vedo l'immigrazione l'immigrato come un oppressore lo vedo come un problema sociale semmai inteso da un punto di vista sociologico e politico che deve essere risolto ma non come un nemico se si intende come nemico io non penso che abbia lo stesso potere di un esercito armato come poteva essere quello nazista in Italia quindi secondo me un paragone l'ho sentito fare in questi giorni e francamente mi ripugna a paragonare la liberazione dei partigiani dal nazifascismo alla liberazione che noi dobbiamo fare dagli immigrati secondo me è una cosa veramente bassa è un colpo basso che non ha senso bene siamo in chiusura quindi sicuramente come ha detto Cristiano Romani è comunque divisivo non c'è dopo questo caldissimo e quindi ecco però bisogna che loro che hanno le possibilità dove vai con queste chiavi vado con le chiavi sono già pronto perché abbiamo fatto tali ecco dicevo che che siano le chiavi per aprire per aprire qualche cosa di nuovo diciamo così bene ricordiamo due appuntamenti intanto uno diciamo politicamente laico domenica c'è foto antiquaria ma domenica si vota anche per le primarie del partito democratico tutto pronto? si oltre 100 seggi in provincia di Arezzo bene vedete voi come fare Cristiano Romani che dice grande affluenza prevista fatelo anche voi che invece di criticare le nostre paura grazie a Luca grazie a Luca Crisolini grazie a Cristiano Romani a Massimiliano Tindalini a Davide Faltoni grazie a tutti a Diego Franchini ci vediamo buonasera a venerdì prossimo buonasera buonasera grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!